Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog Non facevo un vlog dal 2012 probabilmente Ma oggi c'è un buon motivo Uno, spammerò un sacco di volte Bookpowders Perché oggi siamo a Londra ragazzi Non sono solo Lì dietro c'è Giovanni Non chiedere Giovanni Fois Che dopo avermi battuto Una situazione bislavica Dopo avermi battuto quei cannoli Adesso è diventato Fashion blogger Fashion blogger E poi il buone Alessandro Parambiaghi Un sacco Un sacco E tu ti devi presentare Io sono Alice Alice Fit Io sono Sofì E lui è lui Esatto Andremo a mangiare Ma non prima di aver perso tutti i capelli di Giovanni Perché se li tocchi ancora Sembri Denis Dosio Faccio la buona Io sbatto La cancello Siamo per fare una domanda molto importante Siamo qui con Altre due ambassadori di Fulk Ciao ragazze Ciao Esatto Hai mai chiesto Hai mai chiesto Come fossero i giocatori senza derby Scusate Ehm Ehm Sorry Ok è enough Ci basta Sono chiesto di insegnargli una Insegnarle Grazie anche in italiano Alessandro ci Insegnarle qualcosa in italiano Ora I'm a youtuber Ok So I made a statement It's gone viral All over the world Even in America Ciao ragazzi Ciuccio cazzi Ciuccio cazzi Grossi Grossi Come palazzi Come palazzi Come palazzi Come palazzi Come palazzi Perfect You are now an italian citizen Applaus Applaus to her Yeah Good You don't want to know it You don't want to know it No 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 You don't want to know it Trust me No 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 Ok Che significa It means that you suck Big like buildings No Ok Ok Deal it Deal it No I'm a fuck off It's Waffanculo Oh I know Waffanculo Perfetto Yeah Waffanculo a te A tutti Waffanculo There is a song with the Waffanculo What everybody knows Yeah ma scusa Gli boi di She wanted to know Niente In French Ok Waffanculo in francese No In French Teach me Va Va Tu Tu Fer Fer Enculé Waffan 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 Enculé Enculé Ah Waffan 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 Ok Siamo arrivati alla prima cena di questo viaggio Abbiamo il nostro nome è solo anche nel team rosso e voi vi chiederete che cosa vuol dire questo team Lo scoprirete domani perché ci sarà una sfida Sono uno dei più secchi di questa tavolata Anche delle ragazze Questo è un problema Dopo aver mangiato Aaaaaaah Esatto Insegnato l'italiano alle straniere E dopo aver Che cac... che cos'altro abbiamo fatto ragazzi? Niente Vabbè niente Ragazzi ci vediamo domani Aspetta aspetta No ma non dire così perché per loro domani è subito adesso immediatamente Ci vediamo adesso Buonanotte Buonanotte Fiorellino Ciao Buongiorno Buongiorno Equitalia Ale ma quanto fa 128 diviso 7 E' vero dammi 5 minuti Lo sai chi sembra in questa posizione? Quello di Stasera Figa Che... Chi cazzo era? Che che dicevo? Fabrizio Maurizio Se non viene si ha un tacchino Figa Si fa i tacchini Figa C'è bordello figa Spacchiamo tutto Stiamo per andare a fare lo shooting di oggi E mi sono portato Oltre a questo spoiler che ci sarà in un prossimo video Una fantastica macro match Che ovviamente non può mancare mai perché è la mia barretta preferita E ovviamente la trovate in descrizione con il codice PURRO No 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 Di fare le cose fatte bene Se anche tu sei un secco di merda e ti sei stufato Che la tua vita faccia schifo Migliora Con dei muscoli E' un ottimo modo Sono le proteine Contenute in questa barretta macro match Col sapore che sembra Un cazzo di Mars Avete capito? Quindi acquistatela Facendo Un click Nel link in descrizione E diventerete grossi Come Ragazzi siamo arrivati al camp Dove dopo gireremo Ed è veramente una roba imbarazzata Cioè c'è il crossfit ragazzi Ma a me non piace proprio Come cazzo faccio a fare il crossfit? Due burpees mi viene da vomitare Qua è pieno di balle di fieno Possiamo metterci a dormire proprio Vedi ci sono tutte proprio le cose da crossfitter Cos'è sta roba? Dove sono i miei pesi normali? Dov'è il mio squat assistito? In questo video abbiamo tantissima qualità Ciao ragazzi Sto sfidando Giovanni In una gara di velocità Quanti metri saranno? Eh no Ora decidiamo Forse facciamo lì il percorso Guarda che figo Tutto questo No però che esco sceso Ci uccidiamo Ma no facciamo sul dritto Perché devi fare cose complicate? Allora facciamo Partiamo da lì E arriviamo là Vai Due Una Via Vince Giovanni Fuà Per poco Che l'ultimo è volato? Eh perché mi stavo Mi stavano volando i piedi C'è un piccolo problema Domani dobbiamo girare il video con le due ragazze Ma Giovanni me le sta importunando tutto il giorno E ieri Ci stanno odiando Ma poi proprio senza ritene Cioè va lì Di solito solo io quello che ci provo No io non ci sto provando Io sta importunando Si sta importunando Cioè domani queste no Si rifiuteranno di girare Raga urla di battaglia prima di iniziare Uno due tre Minchia Molto meglio di Daier Un uglione Raga penso di stare per morire Un uglione 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 Su Una tesla Che ha peso dei emoticon della pesca A 180 mettendo la sesta Lei mi digerà lenta Ma mi gira la testa Stiamo andando a fare un giro perché non c'eravamo abbastanza riposati Abbiamo deciso piuttosto che stare in hotel a riposarci dopo una mattinata di Andiamo in giro perché Giovanni Fois deve trovare il clickbait per questo video Sì, devo trovare delle fiusci Cazzo, io c'ho il clickbait per questo video Qual è? La mia ragazza mi lascia dopo questo Devo farmi la clip copertina con le due ragazze Complimenti vivissimi Giovanni Hai pagato 14 pound per dei bastoncini Findus Bravissimo Ragazzi vi giuro Il sapore è uguale a quelli del capitano Findus Però lo paghi 14 pound Grazie a Bullpowders che c'è i soldi e c'è i portati Vicino Al Tamigi Bellissimo È il Tamigi giusto? Sì Ok Allora Alessandro sei contento di cenare in questo posto? No, hai finanziato Basta, Alessandro, per favore È una di quattro diciamo No Devo dire che mi hanno rotto le balle di filmare ma questo posto mi ha tirato veramente sul molare Il molà Come fossero i video di Murri senza errori grammaticali Dobbiamo cucinare noi questa sera Oh merda Attento Alessandro che già c'hai una mano smangiata Conta Dov'è il timer? C'hai un telefono da 2000 euro, usa quello Un minuto, un minuto Ragazzi, leziono il numero 2 con Lori Che cosa gli insegniamo però adesso? Ce l'ho io, ce l'ho io Are you ready? I say Ok, I say You repeat Ok, it's your sentence It's my sentence Ma lo sapete Ma lo sapete Ma lo sapete che Giorgio ha un cazzo di 30 centimetri 30 centimetri, eh? I'm gonna give you B Because you can do more Ok, it's good Ragazzi, la frase l'ha scelta Giovanni Io mi dissocio, come su Twitch Mi dissocio apertamente Da, eh Perché io faccio questi video Però ci dobbiamo fare anche il video domani Non me le distrugge Il primo del tempo, cazzo Ok, ho le dire No, no, she wanna know What you, what you, what you teach the air Eh, ma, I'm a spirro Ah, no, he's a slitch Oh, ragazzi Ale è uno spirro maledetto Ale è uno spirro Deve averlo detto niente Wait, no, no, voglio dire la reazione Voglio dire la reazione No, 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 you want to know What Giovanni teach No, voglio dire la reazione Yeah, no You said that Giorgio ha No, 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 zitto La reazione Cazzo Voglio dire la reazione Please Ok, you said that Giorgio Has a dito 36 centimetri And we just said Please, no bad words I don't know It's you It's you Comunque ragazzi Visto che non era abbastanza questa giornata Aspetta, aspetta, aspetta È solo due ciccioni Aspetta, aspetta Adesso stiamo andando Che cazzo vuoi che hai rotto le palle tutta la sera A prendere anche il gelato di Berger Il gelato o i donut Io non ho mai mangiato il gelato di Berger Ma devi mangiarlo A 1200 calorie l'uno No, raga Io sono troppo ciccio Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo vlog È stato molto divertente Vedrete tanti altri video dopo questo vlog A uno in particolare con loro due Con Oxen e Lori Ma adesso faccio fare a loro la chiusura del video Perché questo è il video dove insegnavamo alle francesi Come si parla l'italiano Ready? Ok Non sono molto pronta ragazzi Perché in questi due giorni abbiamo iniziato solo parolacce Per colpa di Giovanni Can I say the words? Ok Se il video vi è vissuto Lasciate un like E ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi 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 al canale Trovate No, anzi non ve lo lascio il loro Instagram in descrizione Dovete aspettare il prossimo video Ciao